Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Iniziamo questa nuova giornata come sempre con i nostri giornali, partiamo subito dalle prime pagine del centro. Andiamole a vedere insieme, questa è l'edizione di Pescara, titolo di apertura di cronaca, sequestrato l'elicottero di Petrocco, evasione fiscale, fatture false, sigilli anche alla Porsche dell'imprenditore. E qui vedete proprio a centro pagina la fotografia con l'elicottero e la vettura sportiva. Sotto la fotonotizia, crollo dei balconi 37 nei guai, l'Aquila sotto inchiesta dirigenti e fornitori del progetto case. Andiamo a vedere anche nelle cronache, scontro in moto in Francavilla, operaio muore 5 mesi dopo l'incidente. A Pescara, sospeso il trasloco alberghiero, spunta l'ipotesi Fontanelle. E poi sempre a Pescara, ieri pomeriggio, vertice del Partito Democratico dopo l'inchiesta, il PD si scusa ma difende Alessandrini. E poi abbiamo di spalla la lettera, madre contro i medici, vaccinazioni rischiose, l'ho provato con mio figlio. E dunque c'è una lettera di una mamma che racconta la sua esperienza. Andiamo a vedere poi nel taglio basso il Buongiorno a Bruzzo, firmato da Fabio Casmirro, 5 ragazze salvate dal sesso di strada. Una storia che parla ovviamente della prostituzione. E poi sotto la testata, la sentenza, sabotare l'alta velocità, assolto lo scrittore Henry De Luca. E dunque sono richiami dal nazionale, così come il giallo di Brescia, nei forni della fonderia, la chiave del mistero. Andiamo avanti adesso, andiamo a vedere la pagina di L'Aquila Avezzano sul Mona. Questa è la prima pagina, dunque, balconi come biscotti, 37 nei guai. L'Aquila la procura inchioda calvi, dolci, funzionari e dirigenti comunali. E poi a centro pagina. Aveva 52 anni, ad Avezzano muore dopo quattro mesi di ricovero il commerciante caduto in bicicletta. Lottato per più di quattro mesi, sostenuto dall'affetto dei familiari e dei tanti amici, ma non ce l'ha fatta. Francesco D'Angelo, 52 anni, titolare della pizzeria Barone Rosso di Via Don Mizzoni ad Avezzano, si è spento a causa delle lesioni riportate in un incidente in bicicletta durante un'uscita con gli amici. Era ricoverato nella clinica Villapini dopo un periodo trascorso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. E ancora il richiamo dalla cronaca di Pescara, sigilli all'elicottero di Petrocco, evasione milionaria, sequestrati anche la Porsche, 15 conti correnti bancari. Nelle cronache all'Aquila, lavori gonfiati per un milione, VIP nel mirino. Ad Avezzano i ladri rubano pistole e gioielli in un'abitazione a Sulmona, in particolare a Goriano Sicoli, pastore ferito dall'assalto di un cinghiale. Andiamo ancora avanti con la lettura del quotidiano Il Centro. Questa è la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto, morto in A14, guardrail inadeguato, società autostrade, condannata a risarcire 900 mila euro alla famiglia di un autotrasportatore. Bomba ecologica a Brecciarola, nella fotonotizia, prelievi nei terreni contaminati dal gas, inchiesta della Procura, 15 prelievi di terra e acqua contaminate per scoprire i responsabili della bomba ecologica di Brecciarola. Accertamento sul rischio esplosivo e del grado di contaminazione da gas metano, anche delle falde acquifere su un'area ormai vasta che comprende 12 particelle catastali. Questo hanno fatto ieri mattina gli uomini della forestale della sezione di polizia giudiziaria della Procura, coordinati dall'ispettore Alessio Paolini. Poi ritroviamo ancora la notizia dei sigilli all'elicottero di Petrocco, evasione milionaria, sequestrati anche una Porsche e 15 conti correnti. Nelle cronache la sentenza in vasto raggirò il prete un anno al collaboratore. Poi inchieti il progetto in via Ciampoli, il parcheggio della Movida e ancora all'Aquila, questa volta truffa all'Aquila progetto case, un vastese tra gli indagati. Andiamo avanti, vediamo l'ultima delle quattro prime pagine provinciali del centro, quella dell'edizione di Teramo. Condannato l'ex manager della ASL, questo è il titolo di apertura, tre anni a Giustino Varrassi per l'uso dell'auto blu e la nomina di Robimarga. Ieri nel tardo pomeriggio c'è stata la sentenza proprio al tribunale di Teramo. A centro pagina, nella zona industriale di Corropoli, un camion carico di stoffe si è ribaltato dopo lo scontro con un'auto. Ieri nella tarda mattinata, nella zona industriale di Santa Scolastica di Corropoli, è successo appunto questo incidente nel violento impatto in cui fortunatamente c'è stato soltanto un ferito lieve. Il mezzo pesante si è roveggiato adagiandosi su un lato e perdendo il suo carico di stoffe. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e per recuperare il mezzo pesante è stato necessario l'arrivo di una grossa gru. Poi il sisma accuse a quattro teramani l'aquila inchiesta sulle spese gonfiate nella ricostruzione privata. Ancora nelle cronache le nomine nuovo consiglio alla fondazione Tercas e poi il rischio dissesto comune di Silvi spuntano debiti per 2 milioni. Ancora ex politico pescarese, lo abbiamo visto in precedenza, evasione fiscale, è sequestrato un elicottero. Andiamo a vedere adesso la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Vediamola insieme. Titolo di apertura, 3 anni e 2 mesi a Varrassi. Teramo, il processo per le auto blu e il caso Robimarga, l'ex manager dell'ASL, dice sono allibito. Riconosciuto colpevole di peculato ed abuso d'ufficio, la procura aveva chiesto quasi il doppio. E poi in questa finestrella, Ortona, la morte del camionista, barriera inadeguata, autostrade, paghi, quel guardrail non era adeguato. Ecco perché il Tribunale Civile di Chieti, sezione di staccata di Ortona, ha condannato la società autostrade a risarcire con circa 900 mila euro i parenti di Guerino Berghella, 31 anni, autotrasportatore di Fossacesia, morto il 16 febbraio 2010 dopo essere precipitato con il suo camion da un'altezza di 30 metri dal viadotto Brusciano, poco prima del casello a 14 di Ortona. La sentenza dice che la barriera non era assolutamente capace di assolvere la funzione di contenimento del traffico veicolare. Andiamo a centropagina adesso. Progetto case, balconi crollati indagati in 37. All'Aquila ci sono anche dirigenti delle comune e i responsabili della realizzazione degli alloggi tra i 37 indagati. E poi la fotonotizia pescare evasione fiscale nei guai l'imprenditore Petrocco, sequestrato l'elicottero usato da D'Alfonso, 4 milioni di evasione fiscale e 2 di mancati versamentiva. Sotto inchiesta l'imprenditore Lucio Petrocco, la finanza gli sequestra anche l'elicottero che venne utilizzato da Luciano D'Alfonso e ricorderete anche le polemiche soprattutto all'interno del centrodestra, area da cui proveniva Petrocco, proprio per l'inopportunità, secondo i suoi ex compagni di partito, di quella scelta di far usare l'elicottero a Luciano D'Alfonso. Andiamo a vedere di spalla. L'orso fa razzia di polli in una frazione di Sulmona. e quanto accaduto appunto nell'area Peligna, i residenti di Cavate hanno paura, riserve Parco si muovano. Nel taglio basso, giornalisti premio Polidoro, edizione numero 14, il premio giornalistico intitolato all'ex coordinatore regionale del messaggero Guido Polidoro giunge alla quattordicesima edizione. Ieri all'Aquila c'è stata la presentazione all'ordine dei giornalisti d'Abruzzo con il presidente Stefano Pallotta, il direttore di Biper Guido Serafini, il responsabile della direzione adriatica della stessa banca Raffaele Marola, nonché Luigi Polidoro, moglie del collega del messaggero scomparso nel 2000, assente alla provincia dell'Aquila, ente che fu tra i promotori del premio. Andiamo a vedere anche sotto la testata del messaggero Abruzzo, maltempo regione, chiesto lo stato di emergenza per la Marsica e sempre per quanto riguarda il maltempo, dissesto idrogeologico, sospiri, mazzocca, scontro sui fondi. E poi a Pescara di Matteo si sfila dal caso Alberghiero. Ieri c'è stato il Consiglio Comunale straordinario, l'assessore regionale nega la paternità del progetto per l'accorpamento tra De Cecco ed Agrario in Consiglio Comunale, la protesta degli studenti. Andiamo ancora avanti con la lettura dei nostri giornali. Adesso andiamo a vedere insieme la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, titolo di apertura ovviamente di cronaca giudiziaria, condannato l'ex manager Varrassi, tre anni e due mesi, al professore per aver usato l'autoblue dell'ASL per scopi personali. Poi a centropagina le fiamme gialle hanno sequestrato l'elicottero prestato ad Alfonso, niente più passaggi, questo è il titolo scelto dal giornale. Sotto la fotonotizia ecco la nuova fondazione Tercas, rinnovati sette membri su dieci al Palazzo Melatino. E poi di spalla, Roseto al voto, Ginobili cerca di ricucire con Sottanelli. E ancora polemiche a Campli, Ponte Insicuro, Sindaco Ribelle dice sistemeremo. E a Giulianova ieri l'addio alla signora investita con il marito. Sotto la testata, impresa Teramana nei guai, ai quattro cantoni, ricostruzione all'Aquila, perquisita la ditta Cingoli. E poi a Giulianova, nuova caserma, si alimenta il fronte del no. Andiamo a vedere anche nel taglio basso, nuovo corso di Teramo, il cantiere parte al rallentatore, poi Pinacoteca Melarangelo in mostra e il respiro europeo del pittore Teramano. Ed ora apriamo lo spazio dedicato alla rassegna nazionale, andando a vedere appunto le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, titolo di apertura la UE, non ferma la manovra del governo Renzi. Stabilità a Padoan, trattativa continua, giallo sui tagli della Tasi per le seconde case nelle grandi città. Verso il primo sì, in attesa del vero esame, Salvini e Fico contro il canone Rai. Dunque questo è un po' il riassunto della situazione politica intorno alla manovra di stabilità. Poi i dati, crescita del PIL inferiore al 7%, l'economia cinese rallenta, le borse restano a guardare. E ancora, internet veloce, accelera il piano sui contatori Enel. La rete Colao di Vodafone è andato ad ascoltare, anzi a farsi ascoltare dal Premier. Andiamo avanti, Repubblica, la UE annuncia il sì alla manovra ma è battaglia. I falchi tedeschi dicono niente sconti, Parigi invece con Roma, Renzi attacca la minoranza del Partito Democratico, sono come Totò, si oppongono a prescindere. E poi a centropagina, in questa fotonotizia, lo scrittore aveva detto sabotare è legittimo, notava assolto ieri, Erri De Luca ha vinto la libertà di parola, questo è il commento di Repubblica. Andiamo avanti, la stampa, Bruxelles verso il sì alla manovra ma l'Europa non vuole accettare lo sfondamento del deficit di oltre 3 miliardi chiesto dall'Italia per l'accoglienza ai migranti. Il Cannone Rai si pagherà in sei rate da 16,66 euro, autocertificazione per chi non ha la televisione. A centropagina stiamo perdendo i colori dell'autunno, questa è la notizia curiosa con questa bellissima fotografia. Il caldo prolungato smorza le tonalità delle foglie nei parchi, addio a giallo, arancione e rosso. Andiamo a vedere adesso il sole 24 ore, il quotidiano economico, la pressione fiscale cala al 42,4%, ora preoccupa l'inflazione bassa. Forum con il ministro Padoan sui tagli di spesa, scelta politica, la guerra la vinciamo sull'occupazione, così ha detto il ministro. Auspico che le banche siano più forti e più d'una sul contante, ho cambiato idea. E poi verso il primo via libera di Bruxelles la manovra. Renzi vede il presidente della Repubblica Mattarella, la minoranza PD dice vi opponete a prescindere. Intanto resta il nodo dello sconto sulla clausola migranti. E ancora Cina, crescita ai minimi dal 2009, nel terzo trimestre PIL più 6,9%, ma meglio delle previsioni, a rischio target del 2015, i dati oltre le attese spingono le borse, poi frenate da trimestrali e petroliferi. Il messaggero adesso, statali, meno fondi ed assunzioni, nuovi ingressi limitati al 40% del costo delle uscite, contratto e caccia alle risorse, manovra. L'Unione Europea è pronta a dire sì, Renzi, sinistra PD come Totò. Il caso anomalie nel 7.30, arriveranno delle lettere bonarie da parte dell'Agenzia delle Entrate, proprio per quanto riguarda i 7.30 che non sono stati presentati oppure che presentano delle anomalie. Poi la notizia di Henry De Luca che è stato assolto sulla questione TAV, evocare sabotaggi non è reato, Torino accusato di istigazione a delinquere. Questa finestrella è il disegno di legge sulle unioni civili, il governo tira dritto, gelo tra Parazzo Chigi e Vaticano. E poi una notizia che riguarda invece Roma, Marino 5 ore in procura sulle cene, non cancella i dubbi. Il sindaco si difende, ma rischia l'iscrizione nel registro degli indagati. Andiamo avanti il giornale, siamo nei quotidiani schierati, questo è il campo del centro-destra. Svolta sinistra, Cicchitto scioglie Alfano. Nuovo cambio di casacca, basta NCD, serve un altro partito che appoggi il Partito Democratico. Marino intanto più di quattro ore da IPM scarica sui collaboratori. La trappola a Francesco, la gaff del Papa, benedice e sprona chi occupa le case. Il pontefice risponde a una lettera dell'ex consigliere comunista Tarzan, storico sostenitore degli abusivi. Andiamo a Libero, ecco chi deve pagare. Sbagliati 7,30 del governo, multe a 220 mila italiani. Altro che fisco amico, la dichiarazione dei redditi precompilata diventa un boomerang. Pagini arrivano a pioggia di avvisi, versate la sanzione entro dicembre, altrimenti aumenta. E poi a centro pagina, la fotonotizia, pronto il superjet usato, voluto dal Premier. Ecco l'Air Force Renzi da 5 milioni l'anno. Andiamo ancora avanti. Il quotidiano, il tempo, ovviamente fare i puntati sulla capitale con il quotidiano romano. Rimborsi e veleni, il sindaco di Roma, quattro ore da IPM, errori dei miei uffici. Non ho mai chiesto la carta di credito. Marino scarica sulla segretaria, quelle firme non sono le mie. E poi il Papa benedice gli occupanti. Lettere sull'emergenza a casa tra Bergoglio e il leader di Action. Andiamo avanti. Il mattino di Napoli, Campania, i prodotti sono sani, terra dei fuochi, test ufficiali. De Luca, il presidente della regione Campania, in tre anni via le Coballe, svuotare i campi rom. Presentato all'Expo lo studio con il bollino dell'OMS, migliaia di prelievi incontaminato, il 97% del territorio. Il maltempo poi, inchiesta per inondazione colposa, Benevento, fiume in piena, abbandonate le case. Andiamo adesso ad avvenire. Azzardo e ricondono. Dopo l'ipotesi del raddoppio dei punti gioco, che il governo ora minimizza, un'altra sorpresa. Crescono le critiche ai provvedimenti. Un nuovo sconto ai centri scommesse illegali nella manovra proroga alla sanatoria scaduta. Poi abbiamo una notizia che viene dagli esteri. Assad avanza con i russi via in 70 mila. La grande fuga da Aleppo, città martire. Ovviamente la notizia riguarda le tensioni e la guerra in Medio Oriente e in Siria. Poi la politica. Renzi alla minoranza, siete come Totò, l'Europa dirà sì sulla stabilità. Si spacca il Partito Democratico. Questa è la visione di avvenire. Andiamo adesso all'Unità. Questo è il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico. Via Libera da Bruxelles, dalla Commissione dell'Unione Europea. Nessun problema sulla manovra finanziaria. È l'Italia più solida del 2014. Renzi. Realizziamo battaglie storiche del Partito Democratico. Investimenti in misure contro le tasse. E poi una foto che ritrae Enrico Berlinguer. Il giornale si chiede, rivoluzionario o conservatore? Questa è la domanda. E poi una notizia che riguarda invece gli spettacoli. Guarda come dondolo su una funetesa tra le Twin Towers. L'impresa di Petit diventa un film ad alta tensione per Zemeckis. Andiamo al manifesto. Sempre nel campo del centro-sinistra. I biscazzieri. Questo è il titolo sempre particolare che il manifesto pone sulla foto di Padoan e Renzi. Sporchi, maledetti e subito. Le 22.000 sale da gioco previste nella legge di stabilità contribuiscono alla crisi fiscale. e sono una palla al piede della ripresa. L'azzardo è un moltiplicatore economico negativo. Ma intanto può portare un miliardo in più nelle casse vuote di Renzi e Padoan. La manovra all'esame di Bruxelles. E poi sotto la testata la notizia della soluzione di Henry De Luca. Sabotare è possibile. L'ultimo dei quotidiani nazionali. Il fatto quotidiano. Oltra poco passeremo anche al meteo. Banca Italia, indagato visco esclusivo. Inchiesta sul commissariamento e la vendita della Popolare di Spoleto. Le accuse dei PM, corruzione, truffa e abuso d'ufficio. Nel 2012 la vigilanza decapita i vertici dell'Istituto Umbro con i conti in ordine e azzera il valore delle quote dei 21.000 soci. Due anni dopo viene ceduto al desio. L'indagine della Procura arriva a via nazionale. Andiamo a vedere anche sotto la testata. Istigazioni dello scrittore non colpevole. De Luca ha solto sabotare. Il TAV non è reato. E poi sospensione oggi la corte sulla Severino. De Luca Vincenzo in questo caso, cioè il governatore della regione Campania, e dei magistri s'appesi alla consulta. Adesso apriamo, come detto, la pagina dedicata al meteo e lo facciamo collegandoci, come ogni mattina, con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno Giovanni e bentrovato. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Dunque, abbiamo ascoltato anche ieri all'interno del telegiornale c'è una perturbazione in atto, un peggioramento delle condizioni. Raccontaci cosa sta succedendo. Eh sì, Alfredo, come avevamo già annunciato nella giornata di ieri, una perturbazione della regione atlantica ha raggiunto le regioni centro-meridionali e nella giornata di ieri ha favorito Rovesci anche di una certa consistenza sulla nostra regione. Ora, la parte più intensa di questa perturbazione si sta spostando verso le regioni meridionali dove nelle prossime ore purtroppo potrà dar luogo a fenomeni anche di notevole intensità, soprattutto sulla campagna dove c'è un'allerta massima per rischio alluvionale. Andrà meglio sulla nostra regione, anche se al mattino avremo ancora condizioni generali di cielo molto nuvoloso coperto con delle precipitazioni generalmente di nebole intensità. E' più probabile sul vessante orientale della nostra regione e al ridosso dei ridievi. Ma il miglioramento previsto nelle prossime ore con probabili schiarite, soprattutto su Alto Aquilano, nel Terramano e nel Pescarese, insomma sarà temporaneo perché un nuovo impulso di aria fredda raggiungerà il Mediterraneo occidentale e favorirà la formazione di una circolazione depressionaria a partire da domani sera, ancora più nella giornata di giovedì, circolazione depressionaria che interesserà soprattutto le regioni meridionali. Ma la nostra regione sarà esposta al richiamo di masse d'aria fredda provenienti dai vicini Balcani e di conseguenza è previsto un nuovo peggioramento del tempo con un aumento della numelosità soprattutto nella seconda parte della giornata di mercoledì associata a delle precipitazioni. Anche se, ripeto, la fase peggiore, la fase più intensa di questo peggioramento interesserà soprattutto le regioni meridionali. Ma c'è anche una buona notizia al freddo perché questa situazione di tempo instabile e a tratti perturbato tenderà ad attenuarsi e migliorare a partire dalla seconda metà della giornata di venerdì perché questa figura depressionaria in formazione da domani tenderà a evolvere, a spostarsi verso il Mediterraneo occidentale e a lasciare libera la nostra penisola e quindi il tempo migliorerà grazie anche alla rimonta di un'area di alta pressione che con tutta probabilità dovrebbe garantire condizioni di tempo decisamente migliore sulla nostra regione nel corso del fine settimana con temperature in graduale ripresa. Quindi dopo questa gran parte della settimana caratterizzata da tempo instabile, incerto, con delle piogge e anche dei temporali la situazione, almeno quella prevista dai modelli attuali, sembra destinata a migliorare soprattutto nel corso del fine settimana al freddo. Ti faccio questa domanda anche in relazione ai fatti che sono accaduti nella Marsica quanto è importante il ruolo delle previsioni meteo soprattutto in un territorio, quello italiano a forte rischio di sesto idrogeologico, insomma si susseguono quasi giornalmente le allerte meteo e dunque ci viene da pensare che sia cresciuto anche il ruolo delle previsioni all'interno del servizio di protezione civile. Sicuramente al freddo le previsioni sono molto importanti se non fondamentali, chiaro che poi bisogna fare distinzione bisogna fare molta attenzione nel dare le allerte ed essere molto precisi quando vengono date le allerte cioè più precisi possibile, poi è chiaro che la natura fa quel che vuole, noi cerchiamo di capire e interpretare quello che potrebbe essere la tendenza, però è chiaro che quando vengono lanciati ripetuti allarmi poi si rischia di creare una certa confusione, di non recepire l'esatto messaggio dell'allerta stessa. Io ne sono testimone, infatti vengo spesso sollecitato per queste situazioni di una sorta di allupo quando poi non ci sono situazioni davvero intense e perturbate. Se oggi vogliamo essere precisi un'allerta massima è prevista soprattutto sulla campagna e sulle regioni meridionali e lì Alfredo tu hai citato l'evento della Marsica che ha colpito la Marsica nei giorni scorsi e lì si può riverificare una situazione simile a quella che ha interessato la Marsica perché c'è una cosiddetta zona di convergenza proprio tra due distinte masse d'aria che sta dando luogo alla formazione dei cosiddetti temporali autogeneranti cioè che si formano a pochi chilometri dalla costa e interessano la campagna e quindi questa situazione è potenzialmente molto rischiosa e molto pericolosa e potrebbe dar luogo a precipitazioni intense, abbondanti e persistenti per diverse ore tali da creare dei problemi soprattutto come hai detto tu in un territorio a forte rischio idrogeologico quindi le allerte servono e sono molto importanti però vanno date con una precisione migliore possibile per evitare di essere malinterpretate. E ovviamente invitiamo anche le persone a essere sempre aggiornati anche per magari, perché no, prevenire qualche situazione di pericolo noi cerchiamo come sempre di venirvi incontro con il nostro esperto Giovanni De Palma che ovviamente ringrazio. Prima di salutarlo facciamo vedere tutti i riferimenti allora con la regia di Gianni Dereo eccolo qui il sito di abruzzometeo.org che potrete ovviamente trovare sempre online con gli ultimi aggiornamenti meteo poi se volete ci sono anche due pagine Facebook quella di Abruzzo Meteo che vediamo in questo istante e poi la pagina Facebook di Giovanni De Palma, la sua personale ovviamente sul social network potete anche interagire con Giovanni e porgli delle domande e lui sarà ben lieto di rispondervi. Grazie ancora Giovanni per essere stato con noi anche questa mattina e ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E noi ci fermiamo per un break pubblicitario poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6 dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 torniamo sul nostro iPad, torniamo alle notizie dalla nostra regione e questa è la pagina Abruzzo del centro nuova sanità, la riforma entro il 2017 un supermanager ASL e cinque centrali della salute. Il piano di coordinamento dell'assessore Paolucci dà un ruolo anche all'agenzia sanitaria regionale e prevede l'avvio con una fase di commissariamento e qui vedete proprio uno specchietto riassuntivo della nuova sanità regionale un supermanager e poi un direttore amministrativo anzi due direttori amministrativi e poi dei direttori operativi sul territorio. Di spalla trasporti sul contratto tua oggi la fumata bianca si chiede il giornale può essere il giorno giusto affinché la regione e i sindacati chiudano la trattativa sul nuovo contratto della tua la società unica del trasporto regionale che ha inglobato Arpa GTM San Gritana. E poi consiglio regionale aeroporto e la city in commissione arriva oggi all'esame della quarta commissione politiche europee il progetto di legge sulla valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo e il programma europeo in materia di gioventù la conferenza di capigruppo stabilisce l'ordine del giorno della prossima seduta del consiglio regionale prevista per martedì 27. Andiamo a vedere adesso sul messaggero la pagina Abruzzo di sesto idrogeologico tra sospiri e mazzocca e scontro sui fondi il capogruppo di Forza Italia alla regione i comuni neanche un centesimo il sottosegretario i sindaci stiano tranquilli procedano con gli appalti questo il caso andiamo scendiamo anzi a centro pagina per parlare di economia infocamere aumentano le imprese ma l'artigianato resta in difficoltà terzo trimestre 2015 i dati ribadiscono quanto già emerso nell'analisi congiunturali del Cresa scendiamo nel taglio basso della pagina Abruzzo del messaggero Masterplan d'Alfonso stringe i tempi via la concertazione con le parti sociali chieste idee realizzabili nell'arco di 24 mesi difficile velocizzare il collegamento tra l'Aquila e Pescara poi Spina della Cisle vede la ripresa ora servono conferme questa l'opinione del segretario della Cisle Abruzzo e Molise andiamo anzi torniamo sul centro per andare avanti nella lettura del giornale e andiamo a recuperare adesso insieme la pagina di Pescara per vedere insomma anche qualche notizia più approfondita per quanto riguarda l'area metropolitana dunque Pescara e Montesilvano andiamo con la cronaca in apertura della pagina di Pescara sigiglia l'elicottero di Petrocco evasione fiscale milionaria la finanza sequestra anche la Porsche e 15 conti correnti questa l'inchiesta portata avanti dalle fiamme gialle l'indagine è stata resa nota ieri allora andiamo a vedere insieme il servizio con i proventi dell'evasione un imprenditore avrebbe acquistato beni di lusso attraverso l'utilizzo di falsa fatturazione e quanto hanno scoperto gli investigatori del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Pescara a conclusione delle verifiche fiscali nei confronti di tre società pescaresi riconducibili al medesimo imprenditore e operanti nel settore della manutenzione della bonifica dei serbatoi per impianti di distribuzione e raffinazione di idrocarburi a finire nei guai è Lucio Petrocco fino ad alcuni mesi fa coordinatore provinciale di Forza Italia ed ex consigliere provinciale le indagini partite dall'incrocio delle banche dati hanno portato alla luce redditi sottratti a tassazione per oltre 4 milioni di euro e un'evasione di IVA per quasi 2 milioni così è scattata la denuncia dei legari rappresentanti delle società controllate per omesso versamento delle imposte i successivi accertamenti hanno consentito di chiarire che l'imprenditore avrebbe utilizzato una delle tre società creata ad hoc esclusivamente per gestire i beni di lusso acquistati con i proventi dell'evasione fiscale sostenendone i costi con il denaro creato tramite false fatture emesse ed annotate dalle società del gruppo a fronte di prestazioni di servizio in realtà mai eseguite tra i beni sequestrati spiccano un elicottero Augusta Westland ed una Porsche 997 Turbo mezzi utilizzati personalmente dall'imprenditore e dai suoi familiari al termine delle indagini GIP del Tribunale di Pescara su proposta della Procura della Repubblica ha disposto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie dei beni degli indagati per un valore di circa 2 milioni di euro in più i finanzieri hanno sequestrato anche 15 conti correnti bancari e adesso andiamo a vedere sul giornale chi è l'imprenditore politico Petrocco fa i rally in Lappogna così scrive il giornale ecco chi è Petrocco petroliere di Civitacuane consigliere provinciale contesta Berlusconi lo nominò capo provinciale di Forza Italia in elicottero portò anche D'Alfonso proprio un approfondimento su questo tema lo troviamo in questo passaggio ma il sequestro dell'elicottero mette in imbarazzo il presidente PD della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso no dicono alla regione perché fa sapere il presidente ha accettato un passaggio tre volte per visionare dall'alto le frane che a inizio 2015 hanno devastato la provincia nella sua qualità di commissario al dissesto e Petrocco si è offerto volontario andiamo avanti con la lettura del giornale un altro argomento caldo a Pescara è quello del De Cecco ieri la protesta è arrivata in consiglio comunale alberghiero stop al trasloco la nuova sede a Fontanelle la regione fa dietro front su Villareia il comune facciamo un'altra scuola la prof catalano vogliamo la dignità di scuola mentre ora c'è solo caos il trasferimento a Cipagatti causerebbe la morte dell'alberghiero la preside di Pietro dice abbiamo bisogno che i lavori nelle nostre sedi si facciano subito e che il prossimo anno cominci in quelle aule l'assessore regionale di Matteo la delibera sull'accorpamento è stata proposta dalla provincia di Pescara e approvata dalla regione quando io ero assente così si è difeso di Matteo e poi il sindaco Alessandrini vogliamo trovare in tempi brevi gli spazi per costruire la nuova sede dell'alberghiero magari a Fontanelle dunque andiamo a vedere insieme il servizio preparato da Paolo Renzetti Consiglio comunale straordinario questa mattina a Pescara per parlare della questione riguardante il paventato trasferimento dell'alberghiero De Cecco a Villareia di Cepagatti nel dibattito è stato deciso dalla maggioranza del comune di portare avanti un'azione finalizzata a chiedere alla regione Abruzzo di sospendere l'efficacia della delibera di giunta numero 825 dell'8 ottobre e di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze del bando per la costruzione di scuole innovative in attuazione dell'articolo 1 della legge del 13 luglio 2015 in presenza di finanziamenti nazionali individuato anche un terreno nel quartiere Fontanelle come ha spiegato il sindaco Marco Alessandrini l'istituto alberghiero oggi ha un faro importante di attenzione di una filiera istituzionale che vuole mantenerlo qui a Pescara perché a Pescara c'è lo spazio per farlo ci sono terreni idoni questo nella zona di Fontanella in particolare dall'altro perché l'alberghiero ha senso a Pescara in quanto è una scuola fortemente radicata nel tessuto sociale che in 40 anni ha visto decuplicare i propri numeri e poi c'è il fatto che naturalmente l'economia turistico-ricettiva cui quasi naturalmente un ragazzo che esce dal alberghiero guarda qui su Pescara trova il più ampio diciamo palcoscenico regionale devo dire che anch'io come gli studenti l'ho appreso dal giornale e quindi oggi forse diciamo colmiamo anche con un supplemento di istruttoria quello che è successo con l'idea però sempre di migliorare il prodotto finale cioè l'azione amministrativa avete predisposto un ordine del giorno da presentare oggi in consiglio comunale si presentiamo un ordine del giorno con cui chiediamo alla regione di integrare l'efficacia o sospendere eventualmente il provenimento in questione in un certo senso stralciando la posizione dell'istituto alberghiero che merita un istruttore a sé in cui il comune di Pescara vuole fare la sua parte e ieri pomeriggio c'è stata una riunione del partito democratico pescarese il PD si scusa ma difende Alessandrini riunione fiume dopo le polemiche per l'inchiesta sull'ordinanza fantasma di Pietrantonio fiducia al sindaco andiamo avanti dunque questo è il risultato dell'incontro poi ripresa sempre al comune di Pescara la battaglia per le antenne di San Silvestro e ancora domani al Serena Majestic gli esperti a convegno sul Job Act e nel taglio basso il raduno annuale le star della musica alla festa della FIDAS andiamo avanti via al congresso nazionale nuove leggi per tutelare i mutilati per servizio da oggi a giovedì l'UNMS a confronto al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano previsto anche il rinnovo degli organi dell'associazione che conta 350.000 iscritti scendiamo in basso in piazza caduti del mare malati di Alzheimer apre un nuovo centro e poi pratiche a casa ci servizio a domicilio per i disabili andiamo adesso alla pagina di Montesilvano il progetto lotta contro lo sfruttamento sessuale cinque ragazze sottratte al giro della prostituzione l'unità di recupero della comunità Papa Giovanni XXIII esivo ha convinto le ex lucciole nigeriane e romene di età compresa tra i 18 e i 28 anni ad abbandonare la strada di spalla musica teatro e pittura al via i corsi per 40 bambini laboratori di pedagogia artistica si alza il sipario su global art nell'atelier di Anna Seccia che ha promosso un progetto aperto a ragazzi tra i 4 e i 13 anni finalizzato ad accrescere creatività e percezione del sé scendiamo nel taglio basso della pagina Palazzo Baldoni sportivi alle elezioni salva vita come usare al meglio i defibrillatori nuovi seminari in città andiamo avanti la pagina di Francavilla dell'area metropolitana muore 5 mesi dopo lo scontro in motocicletta si è spento nell'ospedale di Popoli il 52enne operaio di spoltore caduto in coma per una profonda lesione cranica Manopello nuovo regolamento chioschi al santuario la giunta ci riprova e scendiamo ancora torniamo a Francavilla sport giovanile 4 comuni in rete Francavilla capofila di un progetto sociale che assegna 43 mila euro alle attività ludico ricreative nel taglio basso sempre a Francavilla ripartiti gli allenamenti a Valle Anzuca rugby come scuola di vita per i ragazzi della Media Masci e ancora spoltore asilinido pubblicato il bando per gli aiuti alle famiglie andiamo alla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara Penne la portata del fiume Giardino è sotto controllo ultimati gli interventi di messa in sicurezza dell'alveo l'amministrazione affretta e anticipa i lavori d'urgenza a letto da Alfonso e gli altri cinquantenni in piazza questo è accaduto a letto Manopello popoli piccoli comuni natale e bene favorire forme di coesione e nel taglio basso visite arrampicate sulle torri penne grande affluenza alle giornate promosse dal FAI con l'aiuto degli studenti adesso andiamo a vedere insieme la pagina dell'Aquila e torniamo sul messaggero Balconi nuova bufera sul comune nei guai i vertici della protezione civile ma ancora una volta molti dei principali indaga dirigenti dell'amministrazione cittadina l'accusa di aver architettato una truffa da 18 milioni di euro materiali inadatti approfittando dello stato di necessità degli sfollati gli accusati non avrebbero accertato le numerose segnalazioni giunte dagli inquilini andiamo a vedere insieme il servizio preparato dalla redazione aquilana è arrivata ad una svolta l'inchiesta della procura della Repubblica dell'Aquila sul crollo di un balcone di un alloggio della palazzina antisismica della New Town di Cesare di Preturo nel mirino della magistratura sono finite 37 persone a seguito delle indagini scattate il 2 settembre 2014 quando un balcone si è staccato dal secondo piano per difetti di costruzione e utilizzo di materiale scadente cadendo su quello sottostante sono stati notificati tutti gli avvisi di garanzia agli interessati tra i quali ci sono nomi di spicco della protezione civile stazione appaltante del progetto case del comune dell'Aquila la commissione di collaudo tecnici che hanno ridatto le certificazioni dei materiali e rappresentanti delle ditte che hanno realizzato alcune delle New Town dopo il sisma del 2009 avvisi di garanzia per gli aquilani Lucio Nardis Mario Di Gregorio Vittorio Fabrizi Enrica De Paulis Carlo Cafaggi Marco Barassone Mauro Dolce responsabile unico del procedimento del progetto case Sergio Sabato rappresentante dell'errupa alla visita finale del collado tecnico Dino Bonadies progettista di 22 piastre antisismiche Paolo Delfanti progettista di 22 New Town Gian Michele Calvi progettista e direttore dei lavori un lungo elenco di nomi noti e meno noti che dovranno rispondere del crollo che solo per un caso fortunato non provocò ferite o vittime a seguito del quale furono sequestrati circa 800 balconi in legno in 494 appartamenti in tutto il territorio aquilano le accuse contestate dalla magistratura a vario titolo nei confronti degli indagati sono di crollo colposo truffa in pubbliche forniture e una serie di falsi altra inchiesta che riguarda il post sisma migliori in cambio dell'appalto di Palazzo Ciolina sei indagati nei guai per truffa la ditta Cingoli che si aggiudicò ai lavori per 23 milioni e due proprietari tra cui l'avvocato Bellisari andiamo andiamo avanti sempre all'Aquila sviluppo task force per il tesoretto l'Ogli ha presentato la strategia in consiglio comunale ci sono 300 milioni cabina di regia con enti ed uffici speciali già finanziati tre accordi di programma università e ricerca il vicepresidente della regione finora a tempi inaccettabili anche Cialente ha chiesto un cambio di passo dai consiglieri nuove proposte al documento e poi la ricostruzione via Fortebraccio si preannuncia un rientro lumaca per i residenti di piazza Bariscianello e di via Fortebraccio i cui lavori di ricostruzione degli immobili sono conclusi a creare l'intoppo e la condotta del gas scendiamo nel taglio basso cup postazioni raddoppiate ma ci sarà un nuovo sciopero continua l'avvertenza all'ospedale San Salvatore il manager Silveri via al potenziamento del servizio per dare risposte concrete alle giuste richieste venute dagli utenti poi due giorni dedicati allo zafferano questo è l'evento in programma con un cooking show con gli chef Spadone e Zonfa poi c'è la proposta per una piazza da intitolare ad Italo Grossi e poi la polemica degli autistici contro Cialente per una frase pronunciata dal sindaco dell'Aquila durante una trasmissione radiofonica su Radio L'Aquila 1 Andiamo avanti con la lettura del giornale passiamo alla pagina di Avezzano sul Mona La regione delibera lo stato di emergenza via libera la richiesta per l'alluvione in particolare per il territorio di Canistro e della Valle Roveto quello più colpito e il sindaco di Paolo sono rimasto con soli 40 volontari che devo coordinare ci sentiamo un po' soli secondo una prima stima i danni subiti dalle aree interessate ammonterebbero a 30 milioni di euro inizialmente si era parlato soltanto di 10 milioni poi come spesso accade la conta dei danni aumenta verticinosamente Tagliacozzo l'acqua non è potabile i tecnici sono a lavoro stanno lavorando i tecnici per sanificare il serbatoio che è uno dei più grandi della Marsica poi a Sulmona scontro tra il Parco Maiella e il Comune per il comportamento scorretto dell'amministrazione Ranalli con una lettera al vetriolo lo dice chiaro e tondo al sindaco il presidente del Parco Maiella Franco Iezzi poi Civitella Alfedena si perde e trascorre la notte sotto un albero ritrovato sano e salvo dai soccorritori un 77enne cercatore di funghi che aveva smarrito il sentiero a Sulmona Snam Assise Civica entro fine mese ordine del giorno dei capogruppo convocati dal presidente del consiglio Casciani ad Avezzano morto dopo quattro mesi dalla caduta della bicicletta un imprenditore avezzanese poi in municipio scoppia la guerra dei manifesti restiamo sempre al messaggero ma andiamo a vedere insieme la pagina di Chieti Brecciallora Nord arriva alla forestale il blitz nell'area di servizio primo passo dell'inchiesta della procura al via campionamenti nei terreni vicini e nella zona del distributore gas metano nel sottosuolo da accertare il grado di esplosività e quello di contaminazione effettuati una quindicina di prelievi le verifiche sulla bomba ecologica dell'autostrada 25 vanno avanti per ore dopo l'incontro con l'assessore Paolucci si aprono spiragli per gli istituti riuniti questa l'avvertenza a Chieti i ricciuti della Confsal ci hanno dato garanzie per risolvere il problema ora aspettiamo la commissione e poi con le Sant'Antonio discarica i privati non intervengono all'arme del prefetto per i nuovi rifiuti 15 giorni sono passati ma nessuno dei tre destinatari della nuova ordinanza per la messa in sicurezza e la bonifica della discarica abusiva dei rifiuti tossici e pericolosi distrutta da un incendio doloso fra Colle Marconi e Colle Sant'Antonio il 27 giugno ha ottemperato al provvedimento che pure gli è stato notificato scendiamo nel taglio basso stadio Pattumiera rifiuti e bagni sporchi la Chieti Calcio situazione indecente ma il comune si è impegnato a risolverla adesso passiamo alla pagina di Lanciano Vasto Ortona guardrail non adeguato dura condanna per la società autostrade dovrà versare 900 mila euro alla famiglia di Guerino Berghella il camionista morto 5 anni fa dopo un incidente stradale il 31enne di Fossacesia era precipitato col suo mezzo dal viadotto Brusciano ancora ad Ortona nuovi servizi culturali per le scuole comunali a Vasto alla Sider scocca il momento del presidio scendiamo nel taglio basso i lavoratori della regione in mobilità al tribunale di Lanciano 5 persone per sopperire alla carenza di organici ieri firmati due protocolli d'intesa il presidente Brindesi così non possiamo organizzare neppure le udienze e poi vedete una foto del sindaco di Lanciano Mario Pupillo ente musicale senza fondi Pupillo in calza D'Alfonso adesso invece andiamo sulla città il quotidiano della provincia di Teramo per vedere anche qualche notizia dal territorio teramano sanità sotto processo Varrassi ha fatto il furbo con l'auto blu passa la tesi del PM Rosati l'ex manager dell'Asle condannato per peculato e abuso d'ufficio sul caso Robi Marga l'altra inchiesta assolti invece i componenti della commissione che hanno nominato l'urologo Robi Marga a capo di un mini reparto all'ospedale di Giulianova appalti e ricostruzione quattro cantoni blitz dei carabinieri nell'impresa cingoli lo abbiamo visto in precedenza anche nelle cronache aquilane andiamo avanti torniamo a Teramo nomine fondazione terca secco il rinnovato consiglio di indirizzo rinnovati all'unanimità sette componenti su dieci quattro su indicazione di comune provincia università e camera di commercio tre su cooptazione del presidente della fondazione Mario Nuzzo come ultimo atto il cantiere del corso parte al rallentatore restando sempre a Teramo installata solo la segnaletica secondaria lungo via i rally la pioggia rallenta subito i sondaggi nel sottosuolo andiamo in provincia il sindaco si ribella sul ponte ce l'hanno con noi l'opera sul Goscio non è a norma ma quaresimale se la prende con la provincia e con l'opposizione questo accade a Campli il sindaco assicura che sono stati spesi 30.000 euro e non 60.000 come detto dall'opposizione la giustificazione il guado è solo una soluzione provvisoria realizzata in sommorgenza simile a quella adottata dalla stessa provincia dopo il crollo del ponte sul Salinello nel 2011 andiamo avanti a Corropoli scusate volano anche i disabili presentato il dispositivo che permette di pilotare un aereo ultraleggero a Tortoreto una rotatoria sulla statale per risolvere il caos del traffico ad albadriatica più sicurezza per gli alunni se si cambia l'ingresso della scuola andiamo adesso a Giulianova caserma al mercato si alimenta il fronte del no incontro pubblico al Cursal anche Franco Gerardini vicino al sindaco la definisce un'idea scellerata il referendum il Movimento 5 Stelle ha ribadito l'idea della consultazione popolare per la caserma nella zona dell'Annunziata e questa mattina a Giulianova ci dovrebbe essere la visita del comandante regionale dell'arma Michele Sirimarco scendiamo nel taglio basso di questa pagina il bilancio Mastro Mauro e Ranalli fanno il punto in arrivo il centro del riuso nuovi cestini e maggiori controlli al porto rifiuti anche il comune di Giulianova avrà il suo vigile ecologico comune che ha raggiunto circa il 70% di raccolta differenziata adesso andiamo a vedere la pagina dello sport e dunque torniamo al quotidiano il centro per aprire insieme la pagina come sempre dedicata allo sport abruzzese iniziamo ovviamente dal calcio di serie B l'exploit biancazzurro ritmo e fantasia il pescara di Oddo è già da record dopo otto gare giovane tecnico meglio di Baroni e Marino ottavo posto e zona playoff solo Zeman fece un punto in più Sebastiani e la società nessuna frattura interna il presidente a pochi giorni dall'assemblea rottura con gli annascoli divergenze ma rapporti ottimi se non c'è qualcuno che acquista le quote nessuno lascerà il campionato nessuno lascerà scusate il campionato non in corsa per la promozione Oddo piace a molti e potrebbero scipparcelo come spesso accade per le formazioni che devono allevare giovani talenti sia dal punto di vista dei calciatori che da quello degli allenatori intanto Romagnoli al secondo posto il Cesena va sotto e poi dilaga Spezia a Nichilito con 5 gol è finita 5 a 1 la partita tra Spezia e Cesena arbitrata da Nasca di Bari andiamo andiamo avanti e restiando sempre alla Serie B adesso ci occupiamo della Virtus Lanciano l'attaccante della Virtus si racconta Ferrari io Nick Dinamite conquistato dal Lanciano con Mandorlini a Verone con Gasperini a Crotone i miei anni migliori una vita con la valigia in mano i primi calci a Condino a Trento poi la gavetta l'ascesa e il coinvolgimento nello scandalo del calcio scommesse sul piano personale dice sono soddisfatto e sfiducioso per la squadra crescerà nel tempo le scommesse io innocente prima condannato a 3 anni e poi assolto che liberazione scendiamo nel taglio basso maratona ad Andrea Terzo in Toscana Mariani si aggiudica la corsa dei 14 chilometri nell'eco maratona del Chianti e sempre per l'atletica a Grotta Mare assoluti allievi di marcia brillano la Bucci e la Tetis Chieti andiamo in Lega Pro tornando al calcio le abruzzesi in difficoltà Vivarini pronto a cambiare il Teramo novità in vista per la sfida casalinga contro il Prato all'Aquila il presidente Chiodi replica i tifosi che lo invitano a cedere la società nel girone C la casertana vince e torna in vetta ha superato per 2-0 il Catania nel posticipo della settima giornata del girone C di Lega Pro per il calcio per il calcio giovanile allievi pescare l'Aquila ok Silvi in testa nella Juniors Elite qui potete trovare tutti i risultati e le classifiche la serie D il Chieti il suo profeta il Bomber Dos Santos la doppietta con Monticelli lo lancia in vetta ai cannonieri DD Ronci basta critiche il San Nicolò a meno uno dalla vetta l'Avezzano a meno due la Samb passa a Palladini dunque questo il riassunto per quanto riguarda la serie D scendiamo nel taglio basso eccellenza Marfisi la Vastese resterà in cima col paterno all'Aragona il Family Day Francavilla via Deustacchio in promozione Gian Donato riparte da Notaresco arriva la punta bulgara Stojanov e adesso ci occupiamo di basket Ivan il terribile conquista Chieti Roseto allarme Allen basket di A2 coach Galli si gode Lilove aspetta Ty Abbott Sharks l'americano si fa male sabato anticipo a Mantova è tutto per quanto riguarda questa edizione di mattino 6 che ovviamente tornerà puntuale domani alle ore 7 per quanto riguarda invece l'informazione di TV6 l'appuntamento è con il TG6 delle 14 e poi in seconda edizione alle ore 19 grazie per essere stati con noi ovviamente l'augurio di una splendida giornata grazie per la visione Grazie a tutti.